Cimeli delle due e quattro ruote sabato e domenica saranno impegnati nella settimana bresciana, manifestazione organizzata dal Musical Watch Veteran Car Club. Sabato la manifestazione farà tappa sul lago di Seo, a Sarnico alle 9.30 e a Pisogne intorno alle 11.30. Per permettere il transito di questi mezzi ben lontani dalle comodità moderne è stato tracciato un percorso pianeggiante tutto per non mettere in crisi motori capaci di spingere questi pezzi da museo a velocità non superiore ai 40-50 km orari e anche in virtù dei freni non efficienti come quelli moderni. Per evitare le gallerie della sponda bresciana del lago, auto e moto storiche passeranno lungo la vecchia strada oggi impegnata dal transito ciclopedonale. La carovana di veicoli sarà seguita inoltre da uno staff ben organizzato con tanto di officine mobili e ambulanze a seguito. Cosa ci vuole anticipare di questo appuntamento? Una grande festa del motorismo storico in cui vedremo dei veicoli costruiti prima del 1918 un evento abbastanza eccezionale visto le peculiarità tecniche e le difficoltà di circolazione a giorno d'oggi di questi veicoli. Una manifestazione costruita ad hoc per questo tipo di problematiche quindi con dei percorsi molto pianeggianti, un grandissimo spiegamento di forze dell'ordine e di staffette autorizzate perché capite bene che questi veicoli non hanno esattamente i freni di oggi non hanno ABS, però anche la potenza e la velocità sono rapportate quindi comunque per farli andare in tutta tranquillità è stata impiantata una macchina che ormai noi conosciamo bene. Ci vuole citare qualche veicolo particolare anche solo per la data? Io credo, non ho ancora la certezza, ma molto probabilmente avremo un veicolo a vapore dal 1899 abbiamo con certezza un quadriciclo della Peugeot del 1901 e via via diciamo che tutte sono assolutamente interessanti in quanto per ogni tipologia di veicoli hanno delle peculiarità a livello internazionale. Quali produzioni spiccano di più? Ad esempio d'oltre oceana c'è qualcosa? D'oltre oceano ci sono dei veicoli americani, alcuni, anche se per la verità la storia diciamo che è nata più in Europa quindi Francia, questo quadriciclo Peugeot senz'altro sarà molto attraente in quanto è il primo passaggio proprio dalla bicicletta a una sorta di biciclettone a quattro ruote che è un po' la mamma degli automobili moderni. È un orgoglio per l'amministrazione comunale di Pisogna, ha commentato il sindaco Diego Invernici un orgoglio in quanto per la prima volta questa manifestazione si spinge sul territorio del nostro lago sarà sicuramente uno spettacolo da non perdere, anche gli equipaggi vestiranno costumi del tempo.